La creatività, quell'arte che appartiene da sempre a Edoardo Bennato, torna in scena al Teatro Europa Auditorium di Bologna al 12 novembre, dopo lo strepitoso tour Sold Out dello scorso autunno. Sul palco il Pinocchio & Company Tour 2018, che parte dal nuovo singolo Mastro Geppetto e continua tra i brani storici del rocker. On stage la formazione ormai consolidata, composta da Giuseppe Scarpato alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Gennaro Porcelli alle chitarre, Roberto Perrone batteria e Arduino Lopez al basso. A completare il quadro, la musica del quartetto Flegreo, formato sia Napoli nel 2002, è composto da Simona Sorrentino, primo violino, Fabiana Sirigu, secondo violino, Luigi Tufano, viola e Marco Pesso Solido, violoncello. Quasi tre ore di musica, video e interazione con il pubblico per un concerto che non è solo una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Edoardo Bennato continua il suo viaggio di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, ineggiando la forza umana del popolo e dell'amore. Lo scorso anno è stato pubblicato Burattino senza fili 2017, un'edizione speciale dei celebri brani del 77, arricchita proprio dall'inedito Mastro Geppetto, lanciato il 16 aprile 2018. Il cofanetto contiene un DVD con filmati storici e inediti e un libretto di 32 pagine in cui Edoardo si racconta. I brani originali del 1977 sono stati tutti ricantati, con l'aggiunta oltre a Mastro Geppetto di Lucignolo e di Che Comico il Grillo Parlante. La produzione artistica del tour è curata da New Step in collaborazione con Dimensione 20 e 2010. Produzione che arriva a Bologna presso il Teatro Europa Auditorium lunedì 12 novembre 2018 con partenza alle ore 21. Piano 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 piano.